Sulla litoranea di Ponte Cagnano-Faiano, nei pressi di un noto stabilimento balneale personale del 118, ha soccorso un 19enne del posto per delle ferite multiple da arma da taglio ai glutei e dalla coscia destra. Trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dopo le cure del caso, il giovane è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. I primi accertamenti espletati dai carabinieri della sezione di Ponte Cagnano e gli ordini del Maggiore Fasolino hanno permesso di stabilire che il 19enne, nel raggiungere a piedi la propria autovettura, era intervenuto in una discussione sorta a seguito di un lieve sinistro solidale in cui era rimasto coinvolto un suo conoscente, venendo successivamente aggredito da altre persone che si sono aggiunte, nel frattempo, alla controparte. Sono in corso indagini finalizzate ad identificare tutte le persone coinvolte nei fatti.